Dai dolcetti ai menu a tema, dagli eventi ai costumi, dalle feste ai giocattoli, c'è tutto un mondo che si muove dietro ad Halloween che al di là della magia della notte rappresenta anche una macchina per far soldi. A Cremone il business è di 232.059 euro, pari al 3,6% del totale regionale e allo 0,5% del totale nazionale. Nella nostra provincia inaspettatamente le aziende interessate ad Halloween sono in tutto ben 1.803, tra le quali predominano i locali di ristoranti con cene a tema circa 1.420. Oltre la metà dei prodotti importati viene dalla Cina, ma di questo non ci si stupisce. Allora dolcetto o scherzetto?